Buonasera a tutti, sono Andrea Melani, rappresento la lista civica Forza Montecatini, una lista che penso che vi sia già arrivato alle orecchie, che è una lista completamente di giovani, formata completamente da giovani, giovani che hanno deciso di aderire al progetto di Alberto La Penna, un progetto che noi riteniamo giusto e che possa veramente rilanciare il della nostra città e speriamo oltretutto di vincere chiaramente le elezioni del 6 e 7 giugno, ma come lista civica di raggiungere anche il cuore e quindi di ottenere un consigliere comunale e di rappresentare i giovani di Montecatini all'interno del comune. Grazie a tutti.